Il settore dell'aerospazio sarà sempre più importante per l'Italia, per il nostro paese e per l'Europa dal punto di vista economico, dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista strategico. Politiche e istituzioni devono sostenere un comparto industriale così importante in forte crescita che non rappresenta solo sicurezza ma rappresenta sviluppo, ricerca, posti di lavoro e tante piccole e medie aziende che rappresentano il Made in Italy, in Italia e nel mondo. Oggi a Montecitorio abbiamo presentato l'intergruppo parlamentare perché vuole veicolare messaggi e vuole sensibilizzare anche il Parlamento stesso ad un comparto che molte volte è sconosciuto.